Ma che ti sei? Non lo so. I denti? Che cosa stai facendo? Stai pittando i denti? Sì, lo so. Lo so. Sì, sì, tanto verlo. Tanto verlo. Pittiamo i denti. Se ce l'hai di tutto, guarda già. Incisivo? Fa spesso. E anche i nomi di tutti i denti, fammi sentire. Aspetta, ho il sorriso a 150 denti. Sì. Andiamo sull'occhio, andiamo per l'occhio. Com'è? Denti? Va bene? Lingua? Ah, c'è da che da secco. Ecco, questo è bene. E' libero? Sì. Guarda la mano a levargli il grembiule, diciamo. Sono andata a scuola. Guardate come è uscita questa. Bene? Però la scarpa diciamo che non è il caso di inquadrarla, vero?